Francesco, vedi che sta la quarantena? Tombola! Com'è tombola? Ho detto quarantena! Ma come non sai del c***o virus? Vedi che stiamo in ospedale? No, io avevo capito quattro! Cinquina e poi tombola! Beh, vedi sentirevi quel reggisino dalla testa? Ma questa è una mascherina! L'ho tolta l'infermiera! Come in mascherina! Allora Francesco, hai lavato le mani con la mughina? Che vuoi perché la chiamo una mughina? Forse perché è questo tuo personaggio da oggi tutta la confezione! Io ho lavato le mani con la benzina perché la mughina è un bene del lusso! Poi ho pulito con la smerigliatrice e poi ho fatto con la lucidatrice e adesso sono rimaste solo le ossa delle mani! E chi ti ha detto queste cose? Chi ti ha detto di fare così? Così hanno detto di fare in televisione! Ma quelle sono fucking news! Tu devi credere solo alle cose che dice Barbara la tua ossa! Sei spazzita tu! Ciao Vittorio, grazie! No, ciao il cazzo! No, ciao no! No, ciao! Esci da qua! Mannacchia! Scritti le ossa! Sono le ossa! E ora come farai il Papa? Proprio di questo ti volevo parlare! Non ho più voglia di fare il Papa! Mi sento vecchio e stanco! E ora scusa, chi lo deve fare il Papa? Me lo faccio io! Posso fare io a professione Papa? Già fatto! Scusate! Ma ci sono feriti cristiani tu! E allora doggio vado a balla canzoni! Vai! E' one! E' cio! E' tre! Trotte infezioni, le controindicazioni I tuoi colpi di tosse di ieri sera Ringrazio il cielo che sta in questo reparto Rispetto a chi ti ci ha portato dentro Ma questo sono io! Che succede? Ciao a tutti! Sono Morgan! Allora! Allora io ho bisogno di sapere Sono in crisi perché? Perché non trovo buco da due settimane! Ecco questo buco! Pitta in qualche buco basta! E vedi che deve stare in qualche buco! 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 E' morto di un virus corone!